I desideri mi fanno paura, perché mi parlano di te che non potrò avere mai. Dicono mille storie impossibili che non si avverano nelle cose di questo mondo. I desideri mi fanno paura, perché mi portano da te ovunque sei. Ovunque vai, trovano mille strade impossibili che mi riportano ogni volta a te. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info I desideri mi fanno paura, perché mi portano da te ovunque sei. Orunque vai, trovano mille strade impossibili che mi riportano ogni volta a te. Orunque vai, trovano mille strade impossibili che mi riportano ogni volta a te. Orunque vai, trovano mille strade impossibili che mi riportano ogni volta a te. Grazie a tutti.